Pochi mesi fa, nel novembre del 2016, un violento dramma ha colpito Monesi, le zone nimitrofe. Gran parte delle abitazioni, delle attività commerciali, delle strutture ricettive e delle strade hanno subito ingenti danni. Il governo, pur riconoscendo la gravità della situazione, non ha ancora contribuito in alcun modo alla ricostruzione e al risanamento. Alcune associazioni e molti volontari hanno deciso di non aspettare di agire subito per aiutare l'Alta Valle Arrocia, Monesi e i suoi abitanti a rialzarsi e uscire dall'incubo che li ha investiti. Per questo motivo la Proloco, Mendatica, Monesi, Young, i volontari di Reprei Monesi, la Confcommercio Imperia, col padrocinio del Comune, hanno organizzato per sabato 18 marzo alle 21 un concerto di Soul e Gospel presentato da Gianni Rossi nell'auditorium della Camera di Commercio di Imperia con ingresso a offerta. Ma la solidarietà parte prima, dalle 19 al Bar 11 di Monica Tondelli, ci sarà una pericena e anche qui parte del ricavato sarà devoluto al Pro Monesi. Grazie. 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 Grazie.